Musica Venerdì 26 ottobre, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione da TRG, con la nostra rassegna stampa del Tg Mattino, sfoglieremo i quotidiani, daremo un'occhiata al nostro sito, vedremo un servizio dedicato ad un importante appuntamento di scena oggi dedicato alla mobilità, ma sono tanti gli eventi che riguardano l'Umbria quest'oggi, con visite importanti, prestigiose a Foligno, il Presidente del Parlamento Europeo, e un Ministro in Valnerina, a Norcia ci sarà la Presidente del Senato, insomma una giornata che a livello istituzionale vedrà l'Umbria al centro dell'attenzione, ma già si guarda anche al futuro, al 2019, anno di elezioni, elezioni comunali anche a Perugia, Su questo apre la nazione con il titolo Gli sfidanti, faccia a faccia, il Sindaco Romizzi che è scelto ovviamente per correre per il secondo mandato dal centro-destra, e Giuliano Giubilei per il centro-sinistra, sembra praticamente è fatta per la sua candidatura, vedremo all'interno, ma c'è anche tanta cronaca oggi in sommario, non solo sulla nazione, dove si parla di un colpo in casa, nel Perugino noi rapinati da una gang, dicevano di essere carabinieri, portato via un orologio e qualche monile d'oro, e poi trovata morte in un albergo a 24 anni, nessun segno di violenza, e ieri sfiorata anche una morte a Agubbio, materassa a fuoco, i vigili a corone salvano una donna, grande paura. E poi, l'allarme dell'Avis, troppi tatuaggi e piercing, così calano le donazioni, reddito di cittadinanza in Umbria, saranno 68 mila persone a beneficiarne, e infine all'università, insulti alla tutor, studente rischia di essere sospeso. Ma la nazione, nel dorso nazionale, parla anche di viabilità, ripartono i treni FCU, ecco le voci dei passeggeri, treni che, come sappiamo, ripartono, anche se molto a rilento. Come a rilento va la ricostruzione, con cui apre il Corriere dell'Umbria, troppi ritardi, le parole sono proprio della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che sarà oggi in visita a Norcia. I banditi che assaltano una villa al Trasimeno, nella fotonotizia, e poi studentessa colpita da meningite, una ragazza di 14 anni, di Castiglione del Lago, ricoverata a Perugia, profilassi per i compagni di classe. E' ripartita la Lumaca FCU, così la definisce il Corriere dell'Umbria, mentre, sempre da Foligno, come dicevamo, Savone e Tajani a confronto, oggi pomeriggio, alla conferenza di Nemetria. Mentre Candiani, il sottosegretario leghista, promette rinforza ai vigili del fuoco. E per lo sport e bagare in Serie B, dopo la sentenza del Tar, le 19 società, tra questa anche il Perugia, attaccano Gravina, perché martedì potrebbe riaprire alle 22 squadre, e ovviamente a Terni si sogna il ripescaggio. Tegola invece per il Gubbio, la vigilia della trasferta di Salò, Conti out per due settimane. Chiudiamo con il messaggero, l'assalto in villa sul lago, finti carabinieri assaltano la villa, Passignano, terrore all'ora di cena. In otto, armati e travestiti da militari, rompono in casa. All'interno una donna con i figli, i banditi hanno preso orologi, oggetti d'oro. E un'auto, un blitz quasi da pellicola cinematografica. Drinca ai minori, servono multe più pesanti, lo dice il Consorzio degli Operatori del Centro Storico. L'anti Romizzi invece sarà Giubilei, anche il messaggero sulla futura corsa, in questo caso ponendo l'attenzione sull'appoggio dei radicali a Giubilei. E poi, Fonti, Veggie, Mossa per tre progetti, così si usano subito i fondi, rinascita allo sprint. E poi le tumultuose domeniche calcistiche, dal presidente ai tifosi, squalifiche per un club, calcio di dettanti stangata da Ponte Vecchio, per le intemperanze, intemperanze anche di uno studente con il tutor, mafiosi la pagherete, ma la dovrà pagare lui per questi insulti. E poi, licenziato per un WhatsApp, viene reintegrato a Spoleto. Eurociocolate, gran finale al Barton Park, per annunciare appunto il rush conclusivo. Gabriel, il portiere del Perugia, contro la maledizione dei portieri biancorossi. Ultimamente, diciamo che diversi flop. Ternana, campionato nel caos, solo martiglia la decisione. Per adesso le fere non giocano, non lo hanno fatto mercoledì, non giocheranno neanche domenica. Queste le prime pagine, come detto, tra poco vedremo anche il nostro sito, concentrato sulla cronaca, ma noi partiamo intanto da questo venerdì, questo 26 ottobre, sarà un venerdì nero per trasporti, scuole e sanità, perché c'è lo sciopero dei sindacati di base, previsti disagi nei servizi pubblici, esclusi i treni dell'alta velocità. E poi le parole del presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati, tempi inaccettabili per la ricostruzione. Oggi sarà ospita a Norcia, visiterà le zone dell'Umbria, che due anni fa vennero devastate dal terremoto. Tra quattro giorni sarà la ricorrenza di questa vicenda. I modelli vincenti possono essere diversi, dice la presidente, l'importante è raggiungere l'obiettivo finale. Sul governo giallo-verde, dice, bisognerà vedere come le proposte si tradurranno concretamente, mentre sull'Unione Europea la sua posizione è piuttosto chiara. Troppi anni di austerity non hanno giovato alle istituzioni, dice la Casellati, mentre Draghi, sappiamo, lo vediamo su tutti i quotidiani quest'oggi, avverte l'Italia, lo spread danneggia banche, imprese e famiglie e non è una questione per pochi, come qualcuno vorrebbe far credere. La cronaca dalla nostra regione, commando armato, assalto una villa sul lago, otto banditi in azione mentre la famiglia stava cenando, la donna costretta a guidarli alla cassaforte, i figli immobilizzati, alcuni particolari sono in corso di accertamento nel racconto al vaglio. Intanto, immigrati in Umbria, alla carica dei 95.000 alla ricerca di un futuro, il dato è stato rivelato dal nuovo dossier statistico di immigrazione, calano gli immigrati, anche se di poco, nella nostra regione, ed è un trend ormai consolidato negli ultimi anni. Permesso di soggiorno, il motivo più frequente del rilascio è familiare, la maggioranza sono donne. E poi la cronaca, un caso di meningite, contagiato un adolescente nella zona del lago, ricoverata a Perugia, nella vicina Toscana, allarme da un pezzo, la ragazzina a 14 anni di Castiglione, studia Cortona, immediatamente scattata la profilassi per tutti i compagni di classe. Intanto è ancora polemica sulla riforma dei laboratori analisi, va revocata polemica non solo nella fascia appenninica, sindacati in campo, oggi sindaci dell'Eugubino Gualdese, ancora a confronto con Barberini, nuovo incontro con l'assessore, ci sarà anche un incontro al Comune di Gualdo. La Cisle dice, non è affatto chiaro il destino dei tecnici, visto che questo modello ne destabilizza la posizione. Questo per quanto concerne la sanità, e poi ci spostiamo sulle rotaie. I binari sono nuovi, ma l'Umbria viaggia su treni lumaca. Parliamo dell'FCU che ha ripreso il proprio servizio, sono tornati a percorrere l'Alto Tevere fino a Ponte San Giovanni, la velocità però è di 50 km orari, l'Odissea quotidiana degli utenti continua. Continua, orari da rivedere, non è possibile 1 ora e 49 minuti per fare 60 km. Siamo tornati praticamente a fine 800, neanche una decina di passeggeri, questo è il risultato, per la prima corsa da città di Castello, la ripresa del servizio non incontra grandi consensi nel capoluogo Tifernate, che era il bacino più importante di utenza. Eurocioccolate, riparte l'invasione, Guarducci dice nel 2019 cambio tutto, dal tour del mulino all'arrivo di Susanna Tamaro, anche la principessa attrice Isabella Orzini, tra gli stand, intanto taglio del nastro allo stadio Santa Giuliana, prossimo obiettivo l'omologazione della pista per lo svolgimento di gare nazionali. Siamo sempre a Perugia, più uomini e mezzi per i vigili del fuoco, li promette il sottosegretario Candiani in visita al comando di Madonna Alta, siete un esempio, presto nuove risorse, ieri abbiamo dedicato un ampio servizio alla vetrina, è importante che i vigili del fuoco, in particolare le unità cinofile, hanno avuto ieri nell'emittente nazionale della CEI TV 2000, per parlare di un riconoscimento che sarà conferito proprio all'unità cinofile in azione sulle macerie del ponte Morandi nei mesi scorsi, domenica prossima, il premio Moscati. Andiamo alla politica, Giubilei candidato a metà, così lo definisce il Corriere, il tavolo del centrosinistra lancia la corsa, ma annuncia che servirà l'ok della base, i radicali si dissociano da questa ipotesi, candidato a metà per il centrosinistra, ricordiamo, per la corsa sindaco di Perugia. Intanto sono io la vera alternativa per rifondare il PD, le parole di Marco Vinicio Guastichi, che suona la carica alla segreteria Umbra del partito e si scaglia contro i soliti notabili. Infine, su San Bevignate è valido lo stop della soprintendenza, il Consiglio di Stato ritiene infondato il ricorso al tardi ad Isu. Udienza il 15 di novembre. Non si può che esprimere soddisfazione per tale decisione, dice il vice sindaco Barelli. Andiamo alla Nazione, come dicevamo dal dorso regionale, abbiamo la politica in primo piano, Andrea Romizzi scalda i motori e mira a compattare la coalizione centrodestra con tre partiti, una lista civica ed energie per l'Italia. Il sindaco prende, parte a una riunione nel pomeriggio, poi in serata incontra la Lega. Il centrosinistra invece sceglie Giubilei, ma già partono i malunori, anima civica non firma, nel documento spunta una manina che modifica il testo. Anche 5 Stelle sono pronti alla sfida, ma in questo caso non si fa ancora il nome, vedremo se ci saranno le primarie del movimento che di solito avvengono con un click. Il materasso va a fuoco, donna salvata dai vigili, questa vicenda la troveremo nei altri quotidiani, nella pagina di Gubbio, è in camera iperbarica a Fanno, la 47enne trovata in casa, priva di sensi e senza l'intervento dei vigili sarebbe probabilmente spirata. Mentre purtroppo trovata senza vita una ragazza di 24 anni in un albergo, mistero a Corciano, non mostra segni di violenza. Fratelli imprenditori denunciano assaliti da una banda armata, in Trasimeno parte la chiamata al 112 per una rapina in villa, erano in 8-10, si sarebbero spacciati per carabinieri, lo abbiamo visto già nel Corriere. Poi assistenti sociali crescono le minacce, il 95% ha subito intimidazioni, fenomeno preoccupante, 38% sono stati aggrediti fisicamente. Tanti aspettano il reddito di cittadinanza per tanti motivi, chi ne ha bisogno, chi invece spera magari di avere un sussidio per il proprio relax. Ecco le cifre, in Umbria aspetta 68 mila persone, centri per l'impiego ogni addetto avrà carico, 516 lavoratori ogni addetto ovviamente del centro per l'impiego. Non è del tutto chiaro il quadro dei requisiti, c'è il rischio caos agli uffici di collocamento. Infine, municipio al Ponte, siamo ovviamente a Ponte San Giovanni, via libera al progetto, a primavera i lavori per far sì che appunto nel 2020 Ponte San Giovanni veda nascere la nuova sede municipale. A Montegrillo i residenti si prendono cura della zona, più illuminazione e sicurezza nel parco, i volontari incontrano il vice sindaco. Barelli, chiudiamo questa carrellata iniziale con Regione e Perugia su Messaggero che parte da Fontiveggio, parte lo sprint per fare subito tre progetti, scuola Pestalozzi, illuminazione, nuove telecamere in prima fila, il Comune studia la griglia degli interventi in base alle priorità che saranno assegnate. Alcol ai ragazzini, multe più severe, Perugia in centro, la questione degli sciottini venduti ai minori, il presidente Mercuri dice noi al fianco di chi fa il bene della città, inutile che organizziamo iniziative per riportare la gente in centro se poi rimaniamo a casa, i giovani ubriachi, ed sono parole di buonsenso. Pescai e Chico Mendez, i due parchi, il verde, lo fanno bello gli studenti, mentre anche il Messaggero parla di elezioni, il centrosinistra accelera su Giubilei, anche i radicali nella partita, secondo la Nazione, anzi il Corriere, si sfilano, secondo il Messaggero invece sarebbero della coalizione, e stasera l'Assemblea PD per le mosse decisive. E poi i finti carabinieri che assaltano la villa, come abbiamo già visto negli altri quotidiani, mentre lo studente che urla i prof malavitosi è accaduto all'Università di Perugia, lo studente rischia una pesante sospensione. Questo per quanto riguarda la cronaca regionale, noi andiamo a vedere il nostro sito per aprire il capitolo dei comprensori, appunto con le immagini, se apriamo la notizia si vede ancora meglio, di quel che resta delle stanze interne di questa casa, nella quale la 47enne a Gubbio ha rischiato di perdere la vita, tutto questo per un fenomeno di combustione, che probabilmente causato da una sigaretta, da una cicca, ha interessato il materasso e poi alcune suppellettili, non è andata a fuoco, ma di fatto si è bruciato. La donna ha rischiato, questo è l'esterno dell'abitazione, di morire soffocata e sono provvidenzialmente intervenuti i vigili del fuoco, richiamati da un inquilino che sentiva puzza di bruciato e l'hanno sottratta dal fumo. È comunque ricoverata a Fano in terapia iperbarica. Questo per quanto riguarda la cronaca, che ieri ha registrato anche un incidente lungo la vecchia Piandassino, all'altezza di San Marco di Gubbio, un 96enne alla guida di un'autovettura che ha investito una 87enne che attraversava la strada, ovviamente quest'ultimo ha avuto la peggio, è ricoverata con varie fratture al reparto di chirurgia dell'ospedale Eugubino. Da Eugubino di origini, ma ormai da tempo non è più a Gubbio, Francesco Ghirelli, che vediamo nella foto per anticipare lo sport, il segretario della Lega DC è intervenuto sul nuovo caos legato alla sentenza del Tar, ma noi andiamo a lanciare un servizio con la notizia che vedete qui a sinistra, la Sperelliana oggi alle 15 l'incontro sulla mobilità lenta e sostenibile, le ciclovie, un progetto che l'Associazione Valle dell'Assino sta curando da anni e che da quasi tre anni è fermo, nonostante abbia 3 milioni di finanziamento a disposizione. Verrebbe da dire anche questa è l'Italia, spesso si dice mancano le risorse, ma anche quando non ci sono c'è chi non accelera come dovrebbe, è vero che mobilità lenta, ma insomma la burocrazia non dovrebbe essere altrettanto lenta. Vediamo al proposito il servizio. La regione Umbria ha stanziato 2 milioni di euro per la ciclovia Monte Corona Fossato di Vico, promossa dall'Associazione Valle dell'Assino. Prima ancora era stata la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a credere nel progetto stanziando 1 milione di euro. Siamo a fine 2018 e il progetto non ha ancora il via libera definitivo da parte delle istituzioni. Il comune di Gubbio ha redatto il progetto definitivo, anche se il progetto definitivo in realtà noi l'avevamo già eseguito come associazione già nel 2016, ma per ragioni che probabilmente un po' ci sono sfuggite è stato rifatto perché è stato completato fino a Fossato di Vico, quindi è stata indetta una gara e in questo momento credo che sia, almeno spero che sia in fase di approvazione. Una volta approvato il progetto definitivo, così come è stato concepito, credo che il passo successivo sia di approvarlo in una conferenza di servizi. Abbiamo a disposizione 3 milioni di euro e questo dal 2016. Infatti noi ci stiamo domandando come mai dal 2016 siamo arrivati alle porte del 2019. Ancora stiamo un po' in mezzanguardo, speriamo che a questo punto, visto che noi andiamo piano, però andiamo lontano, speriamo che si possa andare veramente anche lontano con questa idea. Anche per questo l'Associazione Valle dell'Assino per spingere sull'acceleratore ha organizzato venerdì 26 ottobre alle 15 alla Sperelliana un convegno sul tema chiamando tra i relatori il presidente nazionale della FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta Giulietta Pagliaccio, che relazionerà sui tanti progetti di ciclovie che sono nati e stanno nascendo in Italia. Sono in corso dei progetti molto importanti, tipo per esempio l'Avento, la Venezia-Torino, 720 chilometri lungo il Po fino a raggiungere Venezia, la ciclovia dell'Adriatico, la ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, che passa le murge fino al Salento, fino giù a Santa Maria di Leuca, insomma ci sono dei progetti molti, la ciclovia del Sole, Verona, Bologna, Firenze, quindi ci sono dei progetti che stanno attuandosi con ritardo, però stanno portando l'Italia un po' ai vertici anche della ciclabilità europea. La ciclovia Monte Corona, Fossato di Bico, che segue il tracciato della ferrovia abbandonata dal 1944 in poi a seguito dei bombardamenti, si inserisce in un panorama più ampio che la collegherebbe con rotte già esistenti. Si collegherà alla ciclovia che è sull'asse del Tevere, quindi fino a Città di Castello, fino a Sansepolcro, e da Sansepolcro fino ad Arezzo. Un veicolo turistico di non poco conto, dunque soprattutto per un target straniero. Si calcoli che in Europa l'indotto del cicloturismo è stimato sui 44 miliardi di euro, mentre in Italia viaggia ancora sui 4 miliardi annui. E appuntamento dunque oggi alle 15 alla Biblioteca Sperelliana, alla sala refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, per questo appuntamento che viene ricordato anche dalle pagine del Corriere, focus sulla mobilità lenta e sostenibile, giornata di studi promossi da FIAB, Associazione Valle dell'Assino, in collaborazione con gli ordini degli architetti e degli ingegneri. Ci sarà in particolare, come detto, la Presidente nazionale di FIAB, ma anche il primo firmatario della legge che definisce i criteri per finanziare infrastrutture come quella che deve a questo punto partire senza altri indugi, anche nel comprensorio Eugubino e Umbertidese. Piscina scoperta, lavori al palo, qui siamo ad Assisi, dai privati l'ancora di salvezza, dovevano essere già partiti ma tanti soldi non ci sono, vedete in questo caso mancano i soldi. E allora l'assessore Capitanucci pensa a nuovi scenari. Andiamo a Todi, il Parco della Rocca tornerà a vita nuova, investimento da 480 mila euro per riportare all'antico splendore, una delle bellezze principali della città. Alto Tevere, nuovo ricco weekend, c'è altro cioccolato, al via oggi la manifestazione dal sapore ecco e solidale, mostre, convegni, musica e artisti di strada, non ci si annoia. Sempre oggi l'ultimo saluto al Vescovo Tommaso Pellegrino Ronchi, le sequie si terranno questa mattina alle 10 alla Cattedrale di San Florido. Città di Castello che si promoziona col premio letterario, il bando recapitato a 500 mila soggetti, domani scatta la consegna dei riconoscimenti, mentre Umberti De Cambia prende a schiaffi politicamente Locchi, i civici bacchettano l'ex sindaco e criticano la giunta Carizia. Biomasse, i cittadini dicono di no, è invece il titolo di apertura da gubbio, vicenda di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi con la consegna delle firme in comune, l'abitazione in fiamme con la donna salvata dai pompieri, invece l'apertura del nostro Tg di ieri con le immagini che abbiamo visto anche dal nostro, sito. L'uomo che parla coi lupi, siamo a Nocera, incontro ravvicinato a Castiglioni per Giampiero Fratini che ha avvistato un'intera famiglia di quattro esemplari, la storia parte da lontano, quando era bambino ha levato un cucciolo rimasto con lui per ben 17 anni. La città è la più connessa di tutto l'Alto Chiascio, parliamo di Gualdo Tadino, mentre abiti speciali pronti al debutto sul palco scenico del Talia, dopo mesi di lavoro arriva di vittoria in vittoria del gruppo della Croce Rossa. Ma come detto oggi Foligno è la capitale istituzionale insieme a Norcia in Umbria, perché qui ci sarà il Ministro Savona e il Presidente del Parlamento europeo Tajani, al convegno di Nemetria alle 15.30, visioni dell'Europa a confronto, ospiti d'eccezione a Palazzo Trinci. Intanto fa flop per la mobilità, il questionario distribuito dal Comune per il piano del traffico, solo in 150, hanno risposto. E poi il nome del pesce non è il latino, la multa è ridotta ma fa ancora male. A quattro anni di distanza arriva il vedetto del ricorso amministrativo, il titolare dice ancora non ci credo. Quando è successo il fatto che mi sono trovato in difficoltà, dice l'uomo, perché praticamente Angelo Franquillo dovrà pagare 615 euro al posto di 1156, che la forestale nell'aprile del 2014 aveva elevato per regolarità nella compilazione del cartellino sul prodotto esposto nella sua pescheria. Mancava una denominazione in latino. E weekend dedicato all'olio nuovo a Bevagna con gli eventi del festival O-Live, mentre a Spoleto, anfiteatro abbandonato da salvare, aperta la caccia ai fondi necessari a ristrutturare l'area, oggi è attesa la visita di Tajani prima di andare a Foligno. Cacciato per una chat, il giudice lo reintegra. Può tornare a lavorare il sindacalista dell'ex novelli, licenziato per un epiteto contro la proprietà, scritto su WhatsApp. Intanto, stella di bronzo al merito sportivo per lo spoletino Edoardo Clarici, riconoscimento per i 40 anni di attività nel settore. E c'è una cantante di Monte Leoni di Spoleto che sogna in grande, Antonia Perleonardi, dopo il cantagiro, dice ora penso a Sanremo. In bocca al lupo. Tribunale al completo con gli organici più veloci le sentenze, è almeno un auspicio a Terni, bilancio positivo del presidente Ianiello, ridotte le pendenze in ambito civile, anche se resta ancora molto da fare. A corso tacito, intanto, un pirata distrugge una panchina spezzata da un'auto che poi è scappata via. Bricialdi, arrivano i soldi per la scuola di musica, la statalizzazione più vicina, dal MEF, 335 mila euro, che serviranno per chiudere il bilancio e pagare gli stipendi. In file, svolta vicina per Cardeto, l'imprenditore Citarai dice lo stop al cantiere dovuto all'Anac. Attendo notizie dal Comune, ieri l'assessore Melasecche si è riunito con i collaboratori, una decisione attesa a breve per il progetto di risistemazione dell'omonimo quartiere. Chiudiamo, anzi proseguiamo con la nazione, si rinnova lo spirito di Assisi, dialogo e confronto tra le regioni, tre giorni in ricordo dello storico incontro voluto da Wojtyla, il 27 ottobre di 32 anni fa. L'appello dell'Avis Eugubino alla vigilia della festa di sabato, donazioni in calo troppi con tatuaggi e piercing, il presidente Ghigi, le abitudini di vita hanno influito molto sui comportamenti. Intanto sul laboratorio analisi di Branca, discussione in consiglio chiesta dal centrodestra Gualdese, oggi incontro comunque in Comune. A Città di Castello si viaggia di nuovo sui treni XFCU, 35 minuti per andare alla Città di Castello a Umberti, dei pendolari tornano in carrozza e dicono sempre meglio degli autobus, mentre i tre giorni di altro cioccolato addolciranno forse anche i disagi dei pendolari, il cacao ha il gusto della sostenibilità, degustazione di battiti e tavole rotonde all'insegna della giustizia. Caso Moschea ad Umberti della Lega non s'arrende, bisogna riordinare i centri islamici. E poi campagna di contrasto all'influenza via la somministrazione dei vaccini nel Folignate, Asle 2, medici di base in Trincea, così si sconfigge il virus. Mentre il progetto europeo di turismo sostenibile porta anche l'esempio di Foligno che viene esportato in altri paesi, Foligno città facilmente percorribile ad esempio sulle due ruote. Discarica all'ingresso del cimitero, siamo a Spoleto, scattano le segnalazioni alla VUS, l'assessore facciamo il massimo per garantire il decoro. Siamo a Terni, il Tribunale cambia passo e volto, l'apertura anche della Nazione, tornano le evidenze per i minorenni, mentre ad Ameria le mura crollate, restano una ferita aperta. Appello del Sindaco per una rapida ricostruzione, Orvieto, turismo, più 9% a settembre, l'effetto sisma è stato assorbito, il danno di immagine prodotto dal terremoto sembra ormai recuperato. Chiudiamo con il messaggero, partendo dall'Alta Umbria, anche qui dall'ex FCU, partenza lenta, i treni hanno rispettato gli orari, dicono dalla Regione, all'alba tra studenti e mamme preoccupate, c'è chi resta spiazzato dagli orari, chi chiede carrozze più pulite, e pensare che si partiva proprio ieri, evidentemente erano già state usate in malo modo. A Gubbio riparte invece Fontecese, il progetto dell'ennesimo centro commerciale a est della città, ma con volumi ridotti, parco commerciale Small, le imprese coinvolte sono folignati. Ad Assisi il Comune invece mette i soldi per i ricercatori dell'università. E andiamo a Foligno, dalle periferie un grido, uniamoci per avere gli spazi, da Fiamenga, Cave, Budino e Maceratola, la richiesta di spazi qualificati, collante dell'iniziativa, è stata l'associazione Hauser. Intanto a Bevagna una scienziata conquista, il premio Ercole Pisello, e itinerari culturali e religiosi per essere il numero uno del turismo, l'iniziativa che viene promossa in collaborazione con Svilupp Umbria. A sorpresa è diventata operativa la nuova sede del giudice di pace di Spoleto, completata il trasloco a Palazzo Leoncilli, mentre due anni fa il terremoto più vasto dell'Appennino arrivano Tagliani e Casellati, il primo a Foligno e la seconda a Norcia, per ricordare questo anniversario. Un tribunale più a misura di donne vittime e minori, quello di Terni, che guadagna, come abbiamo visto, l'apertura di tutti e tre i quotidiani, con tempi più rapidi, il che effettivamente fa notizia. E poi a Orvieto il Festival dei Diritti, ci sarà anche Ilaria Cucchi, tra gli ospiti per ricevere il premio Antigone, questo per quanto concerne la prima pagina da Terni, ma c'è ancora Cronaca da Terni, neonato morto, una foto riapre il caso, un'immagine della madre al mare il giorno prima del parto, insieme al compagno da input alle indagini per nuovi scenari. E poi Bricialdi, la Scuola di Musica, il Ministero sblocca i fondi, arrivano a 335 mila euro da Roma, e per poter pagare gli stipendi, questo per quanto concerne la Cronaca. Noi chiudiamo con un'occhiata alle pagine della Cultura, prima di andare in pubblicità, un ampio inserto oggi dal Corriere Album, intanto l'intervista Elena Sofiaricci, che è approdata da Sisi con la fiction Che Dio ci aiuti, che si è trasferita da Fabriano a Dio, chiedo anche di trovare il parcheggio, dice ironicamente l'attrice, che parla di Suor Angela tutta nuova, della città che la ospita, del rapporto con la fede pure, di Veronica Lario, che ha interpretato in un'altra fiction. Alla Fiera del Tempo, dalle luci di Mussolini alla Lexicon 80 Olivetti, a Umbria Fiere domani e domenica, la terra dei mercanti. E poi due pagine dedicate al fine settimana in Umbria, con tante proposte, da Eurociocolate a rassegni su prodotti più tradizionali, come l'olio, a panicale, ma anche tanta ottima musica nei locali del territorio, dai canti folk, domani sera oltre festival, al teatro Ronconi di Gubbio, con Ginevra di Marco, al rock. Andiamo alla Nazione, anche qui le due pagine di Umbria in prima fila, Eurociocolate sorprese golose, ma anche i diritti umani, festival Orvieto con la Cucchi, le graduatorie di Librandoci, i libri più venduti, con Fate il vostro gioco ancora al top, le indagini di Schiavone, popolari anche per la fiction televisiva, piacciono parecchio. Questo per quanto riguarda la Nazione, chiudiamo col messaggero. A tutto live, Perugia riparte la stagione musicale Bad King, nuovo abito, ma l'anima di sempre. Questo per quanto riguarda la cultura, ci fermiamo, tra poco dopo la pubblicità, abbiamo lo sport.